Papa Francesco e la delegazione vaticana a suo seguito non dovranno pagare domenica 28 aprile il contributo d'accesso. Il dubbio che ha tenuto a banco a metà tritono scherzoso e l'interrogativo reale in realtà trova una facile risporta nel regolamento generale che prevede già l'esenzione per le autorità pubbliche in visita nella città storica, lo spiega l'assessore comunale al bilancio alle partecipate Michele Zuin. Non sarà dunque una norma studiata ad hoc per la visita papale, ma un'eventualità già prevista nel regolamento generale. Va anche ricordato che una parte del seguito del Papa sarà in città già dai giorni precedenti per studiare i percorsi del Santo Padre, dunque pernottando in hotel già verserà la tassa di soggiorno. Siamo molto felici della prossima visita del Santo Padre nella città di Venezia. Ci stiamo preparando insieme a tutte le altre autorità competenti per accoglierlo. Molto probabilmente in Piazza San Marco riusciremo appunto a togliere determinati cantieri che possono disturbare la messa che sembra verrà confermata. Quel giorno, domenica 28 aprile, resterà comunque in vigore la sperimentazione del contributo d'accesso. Come previsto, semmai questa nuova modalità d'ingresso potrebbe riguardare i pererrini in arrivo a Venezia per il Papa, che comunque saranno, almeno per la maggior parte, si prevede i fedeli delle parrocchie del patriarcato e del Veneto, e quindi non tenuti al pagamento del ticket. Non appena si sa fare il programma dettagliato, saranno prese comunque le decisioni conseguenti. Ci manca ancora un programma definitivo di quelli che saranno i suoi sostamenti. Chiaramente cercheremo di far, diciamo così, coincidere le esigenze appunto delle persone con l'introduzione del contributo d'accesso che in quei giorni sarà appunto attivo nella città di Venezia. Insomma, cercheremo di comportarci al meglio per cercare di accogliere i pellegrini e il Santo Padre nella nostra città, nel nostro centro storico.